Una nuova circolazione depressionaria sul tirreno ha contribuito a rendere il tempo instabile almeno fino a domani 20 agosto. A Napoli e in gran parte del territorio regionale campano piogge rovesci sparsi o temporali e un calo termico anche se piuttosto leggero. Temporale e vento forte previsti anche per questa notte, rovesci di media entità anche nel corso delle prossime ore. La previsione dice graduale miglioramento dal 21 agosto con il ritorno dell'anticiclone che determinerà tempo stabile e ampiamente soleggiato. Le temperature massime in graduale diminuzione fino a 32 gradi. Il maltempo ha presentato il conto a Monte di Procida in via Mercato di Sabato dove si è aperta una voragine strada. L'area è stata poi transennata dai carabinieri. Monitorato il verde pubblico e la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni in queste ore a renderlo noto la protezione civile della campagna che fino a domani ha ritenuto di prorogare l'allerta meteo di colore giallo. E al maltempo si aggiungono anche i disagi di altre tipologie. Il centro storico di Napoli con le sue strade affollate da migliaia di turisti si è trovato improvvisamente al buio subito dopo il giorno di Ferragosto. Un doppio guasto su linee interrate di media tensione ha lasciato senza energia elettrica le zone di via Domo e Spacca Napoli provocando notevoli disagi per residenti e commercianti. E' saltata la corrente ma saltava e veniva quindi si vedeva che era un fatto di centro di falso contatto. Non so che è successo precisamente so solo che abbiamo perso la corrente a tratti la più lunga è durata 15 minuti e più volte si è interrotta per poi tornare. Beh c'è stato un grande disagio per fortuna solo una parte del centro antico di Napoli quindi parliamo di San Biagio e Librai e vicoletti tipo Vico Fico, via San Nicolannilo questa parte qua è via Domo. Diciamo che questo ha comportato un po' di difficoltà per le attività di ristorazione che stanno in zona. Abbiamo chiuso e ce ne siamo andati perché purtroppo era impossibile lavorare.